Non tanto bene nel primo tempo, un po' meglio la ripresa? Io sinceramente voglio fare i complimenti ai ragazzi perché era una partita molto sentita, nel primo tempo in effetti non abbiamo fatto bene, ma perché hanno fatto molto bene loro secondo me. Invece, ripeto, faccio i complimenti perché non era facile recuperarla oggi, sentivano molto la partita, i giocatori, tutta la settimana, che insomma sapevamo che questa poteva essere una partita per noi decisiva e dopo una rincorsa di tre mesi perché non ci dobbiamo dimenticare che è tre mesi, che siamo l'intrincea, che si può stare, che trovi difficoltà, l'avevo detto prima della partita, sapevamo, perché ormai l'abbiamo abituato anche abbastanza bene, soprattutto qua in casa ultimamente tutti, però, ripeto, faccio veramente grandi, grandi complimenti alla squadra perché è un punto che comunque per noi è importante, quindi siamo ancora più vicini al nostro obiettivo e quindi ce lo teniamo stretto questo pareggio. Ieri dicevi che seguiva la partita dell'anno, non siete riusciti a farla oggi? No, non siamo riusciti come altre volte perché abbiamo trovato una squadra comunque che altrettanto doveva fare la partita dell'anno perché loro, non dimentichiamocelo, dovevano vincere oggi, quindi non avendo vinto per loro è sicuramente molto più difficile che per noi, quindi ripeto, quando fai partite come questa dove c'è grande tensione, dove comunque senti molto la partita, ci sta che non riesci sempre ad esprimerti ad alti livelli, sono contento della reazione scontempo perché, ripeto, non era semplice recuperare il risultato. Non abbiamo fatto la partita dell'anno, però abbiamo fatto un punto che muove la classifica, che allunga la nostra striscia. Questo è il quindicesimo risultato? Il quattordicesimo. Il quattordicesimo, quindi, insomma, per quello, ripeto, è la squadra che ha fatto la striscia più lunga in questo campionato con oggi, quindi eravamo pari, mi pare, col Treviso, non mi ricordo, mi hanno detto questa statistica ieri, che lascia il tempo che trova, però fare quattordici risultati utili in un campionato come questo è veramente difficile. Quindi, insomma, dispiace non aver vinto perché abbiamo provato di tutto, però siamo andati vicini anche a prendere gol, quindi è giusto così. Insomma, per noi è un punto comunque che è importante in ottica servizio. Ascolta, in campo sei partito in un modo, poi hai cambiato molto.